Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 a causa di forti grandinate il traffico è bloccato tra Incisa Reggello e Arezzo. In direzione Bologna ralentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino. Prevista neve sul tratto appenninico tra Aglio e Calenzano e tra Firenze Sud e Fabbro. Sull'accordo autostradale Siena-Firenze restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggi Monzi e Tavarnelle. Sulla regionale 302 Brisighellese Ravennate senso unico alternato all'altezza del chilometro 27 nel comune di Borgo. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo sulle autostrade e sulle strade a lunga percorrenza. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio. Grazie a tutti.